E' il Piemonte il protagonista di questa giornata, l'artigiano in fiera. Tante le novità proposte dalla regione, dove tutto è pronto per dare il via alla nuova stagione scistica. Sono partito questa mattina da Cuneo per venire a Milano con 60 cm di neve sul tettino. Questo vuol dire che dall'8 dicembre le 11 stazioni scistiche della provincia di Cuneo con i loro 350 km di piste saranno aperti per tutti e speriamo fino al mese di aprile. Quando daranno il testimone ai grandi percorsi turistici, la via del Sale da Limone Piemonte a Sanremo, la più bella strada bianca d'Europa e con lei l'Anello del Monviso e la via Marenca percorsi turistici di asfalto e strade sterrate aperte a tutti da venire a scoprire. Tanti gli eventi e gli stand artigianali presentati dalla regione Piemonte in fiera. Se tu vuoi fare un regalo veramente ye al tuo fidanzato, tuo marito, alla persona che ami logicamente, gli compri un paio di... gli compri le calze che Brad Pitt ha indossato, quelle forse possono trovare in mente no, ma gli compri le calze che Brad Pitt ha portato alla nota degli Oscar. Oppure facciamo un ritorno al passato, ci sono tutta una serie di piccoli artigiani che lavorano in legno e uno in particolare fa dei giocattoli in legno che sono fantastici. Fondamentalmente noi cerchiamo di recuperare il passato e di dare la possibilità a chi compra un oggetto in Piemonte di ritornare forse bambino, perché no? Fondamentalmente noi cerchiamo di recuperare il passato. Fondamentalmente noi cerchiamo di recuperare il passato. Fondamentalmente noi cerchiamo di recuperare il passato.